Ciao a tutti, benvenuti dalla città di Casinetto e oggi vi mostrerò come preparare la pizza di San Valentino Allora, cominciamo a aprire il pane e usare il pane e la fermentazione di più di 48 ore con un poutoflare Ora prendiamo la pizza e la bacchiamo a 380 gradi per due minuti Ok, ora, dopo aver bacchato la nostra pizza in formazione siamo ad aggiungere l'idea di salami extra, che è il salami lo metto in questo modo taggia-asca olives e ci sono dei tomato di san valentino La nostra pizza è pronta e buon San Valentino a tutti!